E' inverno, freddo, nevica, tira un vento gelato e c'è un vecchietto seduto fuori dalla sua casa col cappello, la sciarpa, il giacchetto tutt'ontabarrato, però c'è pantaloni calati e l'uccello di fuori. E lì fermo su una panchina, a un certo punto arriva al postino, vede l'omino e gli fa Oh Mario, e che ci fai qui tutto nudo, con l'uccello di fuori? Eh, stai zitto, è un'idea della mia moglie. E' un'idea della tua moglie. E perché? Sì, ieri con questo tempo sono uscito senza la sciarpa, mi è venuto il collo duro e il rigido. Ma è toh, ora ti fai tutto il giorno, l'uccello di fuori.